Dopo giorni di sciopero e picchetto trascorsi pressoché in Sordina, gli operai della Manuli sono passati alle maniere forti e hanno bloccato l'asse attrezzato, cioè la strada che percorre zona Campolungo. I motivi della protesta sono variegati. Le maestranze chiedono il ripristino del premio produzione di circa 300 euro e il mantenimento degli attuali orari, perché con la riduzione da 6 a 5 giorni di lavoro si andrebbe a perdere un intero turno. Tradotto, tornerebbero a casa tutti gli interinali, circa 120 persone. Prospettive niente affatto rose, se abbinate alla consapevolezza che presto il reparto logistica, cioè il cervello dell'azienda, sarà spostato a Piacenza. È una settimana che mettiamo articoli sul giornale e nessuno si è fatto vivo, cioè le istituzioni devono dare il loro segnale, devono dire a questa azienda cosa vuol fare, se vuole rimanere sul territorio o no, e ci dare delle risposte chiare e concrete, altrimenti i lavoratori sono determinati e continueremo, fino a quando non ci ridanno i nostri soldi. 150 euro ogni tre mesi in meno, un orario di lavoro ridotto e la mobilità avviata per 23 persone. Questi i problemi che hanno portato allo sciopero delle maestranze, uno sciopero che potrebbe protrarsi ad oltranza, vista la mancanza di dialogo fra proprietà e sindacati. Abbiamo deciso di intraprendere questa lotta proprio per fare in modo che l'azienda ci ridia i nostri soldi, perché noi non possiamo più andare avanti così, questi signori ci vogliono togliere la dignità, quindi noi non siamo decisi a contrabbandare la nostra dignità con nessun'altra cosa, almeno cerchiamo di sensibilizzare tutti quanti gli operai a smuoverci affinché l'azienda ci ridiano i nostri soldi. E nel corso della mattinata di protesta un giovane operaio della Manuli è stato investito da una golf che ha cercato di forzare il blocco stradale. Nulla di grave per il ragazzo che ne avrà solo per qualche giorno. In ogni caso il misterioso pirata sarà presto individuato perché diversi operai sono riusciti a prendere il numero di targa e l'hanno già fornito alle forze di polizia.